Grazie a tutti. E' una volta nei geroglifici, nelle immagini scolpite, che c'è il tallone che si solleva. Hai visto all'inizio del Tempio questa immagine dove c'è da una parte la mano destra che tiene gli uomini e la mano sinistra che porta questo simbolo dell'uomo nell'io. Cioè l'attività dell'io è nelle membra destra e nella sinistra c'è la forza di generazione. E io non ho visto altre immagini in basso rilievo con un tallone sollevato. Questo è il segno del passaggio dal Tempo Egizio al mondo greco. Nel mondo egizio la luce, che abbiamo visto, entra nella terra, arriva in fondo e ritorna. Questa forza torna su e solleva l'uomo. Quando tu gli dici della leggerezza, quando l'uomo accende lo spirito, il suo passo si trasforma. E' anche l'elemento dell'arte, questa arte che qui viene rappresentata dalla madre, la Sofia, Iside Sofia. Era la stessa immagine che i greci davano a Dara.